Amici, mi avete chiesto in tantissimi quanti soldi mi ha fatto guadagnare quel video da 100.000 e passa visualizzazioni, sì, non me lo aspettavo neanche io, però ha superato le 100.000, tra l'altro quello di Fall Guys su come scaricarlo, vabbè, ve lo siete visto tipo tutti, ovviamente. Quindi oggi, credo ve lo stia già facendo vedere, andiamo in F11 e vi faccio vedere quanto appunto ha farmato, chiamola così in termini da nerd, quanto ha farmato solo quel video. Allora, visualizzazioni, 117.000, un botto, inaspettate, 2.000 e passa ore di visualizzazione, un botto, solo questo video, 828 iscritti e le mie entrate, rullo di tamburi, no, rullo di... Lasciam perdere, 75,97 euro, quasi 76 tondi tondi, bene. Tra l'altro non me lo aspettavo mai nella vita, è stato inviato a 460.000 persone, totalmente a caso, comunque è stato visto da tantissima gente, coinvolgimento un botto, pubblico, entrate, e in media ora fa 0,65 ogni 1.000 visualizzazioni. Ma prima, ovvero qualche settimana fa, un paio di settimane fa, faceva quasi, quasi, 1,50 euro ogni 1.000 visualizzazioni, che è tipo tantissimo. Quindi questo vi fa capire quanto gente che fa 500, 1.000.000 di visual al giorno, guadagni. Una sbrega, fidatevi, una sbrega. Ma oggi voi direte, ah ma è finito qui, ci fa vedere questa cosa e poi finisce il video. E no, perché, uno volevo farvi vedere, dato che ormai siamo in tema, tutte le entrate da giugno a settembre, ovvero 12 euro, 10 euro, 37 e 60, che in totale fa più di 100. Non so quanto, dovrei fare il calcolo, ma comunque più di 100, tolte le tasse, bla bla bla. E oggi, dato che me lo state chiedendo in un miliardo di persone, voglio mettere pubblici gli iscritti. Perché esattamente un paio di mesi fa, e vi voglio dire il giorno esatto, Ok, esattamente il 15 giugno 2020 ho messo privati gli iscritti. Quindi tipo tre mesi fa, giugno, luglio, agosto, sì, tre mesi fa. Ok, ho messo gli iscritti privati, e mi sono aumentati di un botto, perché oggi siamo a 3365. Vabbè, voi non guardate visualizzazioni in calo e tempo, perché appunto c'è stato quel video da 100 e passa 1000, e quindi saranno per sempre, per un botto di mesi, in calo. Perché non rifarò un altro video da 100.000, vabbè, è rip per me, è fende chat. Comunque siamo a 3365, quindi in un paio di mesi, facciamo così, facciamo negli ultimi 90 giorni, ne ho guadagnati 1300. Dai, facciamo 1300 con 106 euro, auto 5. Ed è tutto in positivo, sempre grazie a quel video. Vedete che c'è quel video, la farni pesca, la cosa dei pro builder, che vi è piaciuto un botto, bla bla bla, tutte robe strane. Questo qua di Fortnite, a caso. Comunque video un po' particolari. Quindi, ora devo andare nelle impostazioni, vediamo se mi ricordo come si fa a mettere gli iscritti pubblici, perché non mi ricordo. Ok, mostra il numero di iscritti al mio canale, salva. Oh, quindi ora abbiamo fatto 1300 iscritti in 3 mesi, vediamo se nei prossimi 3 mesi ne facciamo 1300, oppure vanno giù, perché appunto ne ho appena 3354. Quindi, lo scopriremo solo vivendo, faccio un F11, dovremmo aver visto tutto. Sì, dai, comunque tutto, ma do, ma do, quel video ha aiutato un botto, c'è un botto ha aiutato quel video. C'è proprio mandato tutto, piu, 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 c'è mega, ma che cacchio. Sono, sono contento, buono, buono. Quindi, da esattamente, beh, no, questo video lo farò uscire tra un paio di giorni. Vedrete gli iscritti pubblici, o voi che me l'avete chiesto in miliardi. Spero che questo mini video sarà durato tipo 5 minuti neanche, vi sia piaciuto. Almeno vi ho fatto vedere uno, quanto ho guadagnato dall'inizio, e non è tanto, però questo, signori, fa capire quanti canali grandi, immaginate tutti i canali grandi di YouTube Italia, esattamente loro, quanto guadagnano da YouTube, una sbrega di soldi, e soprattutto quanto può guadagnare un canale da 3500 iscritti. Spero vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, vi ho appuntamento domani, al solito avrò l'1.45, con un nuovo video, e tra l'altro, tra l'altro, scrivetemi nei commenti, se siete arrivati a questo punto, se vi arrivano le notifiche di YouTube, perché molti mi hanno detto che non arrivano. Vabbè, fatemelo sapere. Ciao!